In queste prime due o tre partite interne del Catanzaro l'amministrazione può ritenersi soddisfatta dei risultati raggiunti, del resto anche nell'ultima gara interna con il Parma che ha fatto registrare l'ennesimo sold out, abbiamo potuto constatare che nel giro di mezz'ora e 40 minuti la viabilità è stata completamente ripristinata. Questo significa che le intuizioni sono state giuste, che i correttivi che abbiamo portato rispetto alle verifiche che abbiamo effettuato già nello scorso campionato sono andate nella direzione da noi sperata e quindi non ci resta che continuare su questa scia cercando di sensibilizzare il più possibile i cittadini utilizzare i servizi che l'amministrazione sta mettendo in campo. Ricordo che oltre al più conosciuto musofalo abbiamo altre due aree parcheggio individuate nella zona ovest della città, nel quartiere Sant'Antonio, un'ampia area messa a disposizione dalla famiglia Mancuso che colgo l'occasione per ringraziare e che unitamente al servizio navetta che l'amministrazione ha messo a disposizione mediante la sua partecipata, la MC, sta dando notevoli frutti. Sono sempre più i cittadini che si abbalgono di questa possibilità, che usufruiscono al costo di 1,50 euro del servizio trasporti delle navette che confluiscono in via Schiavi e quindi a ridosso della cosiddetta zona giallorossa che sta funzionando come ci comunicano quotidianamente i cittadini residenti, perché poi sono i principali fruitori di questo accorgimento, di quest'area cuscinetto che abbiamo pensato a ridosso dello stadio. Finalmente riescono a trovare parcheggio, finalmente non si devono preoccupare e quindi modificare addirittura la propria giornata in virtù della partita. Certo c'è ancora da fare, perché abbiamo da sistemare la zona del cimitero, ma questo è qualcosa che potremo affrontare successivamente agli ulteriori lavori di ristrutturazione dello stadio. Per ora ovviamente quella zona è sottoposta ancora a notevoli di disagi e ne siamo consapevoli. Altra area parcheggio è quella di Via Cortese che è stata messa a disposizione dall'azienda ospedaliera universitaria Renato Dulbecco, ci sono a disposizione circa 150-200 parcheggi e abbiamo pensato di destinarne una buona parte alla sosta dei ciclovotori, ma soprattutto abbiamo pensato alle persone meno fortunate, una vasta area all'interno di questo parcheggio è destinata ai cittadini con disabilità. Questo ci ha permesso di tamponare per il momento una grave problematica, perché alla luce della situazione non è possibile che questi nostri concittadini possano arrivare immediatamente al ridosso dello stadio o addirittura all'interno, ma grazie all'intervento dell'azienda ospedaliera universitaria siamo riusciti a ritagliare questa fetta di parcheggio a 150 metri circa dall'ingresso dell'impianto sportivo, riuscendo a dare una risposta. Naturalmente siamo consapevoli che questo è un primo step di una più vasta programmazione del sistema mobilità e parcheggi, non solo nei giorni in cui vi è la partita del Catanzaro. Noi in questa prima fase stiamo cercando un po' di mentalizzare la cittadinanza e abituarla alla possibilità di ovviare i propri spostamenti, anziché con mezzi propri, con i mezzi pubblici. Una città che non è mai stata abituata ha bisogno di tempi medio-lunghi, però già stiamo avendo delle prime risposte. L'ideale sarebbe riuscire a fare in modo che con i tempi giusti nel corso degli anni si arrivi a favorire lo spostamento anche dai quartieri più lontani, quindi dall'area sud della città, da Lido, Aranceto, Germaneto, Santa Maria e raggiungere in questo caso lo stadio, ma quotidianamente il centro città con i mezzi pubblici. Tra un paio d'anni avremo anche la possibilità di mettere a sistema la metropolitana di superficie, quindi cambierà totalmente l'offerta dei servizi di trasporto pubblico. Per ora ringraziamo MC per gli sforzi che sta facendo, nella persona dell'amministratore Eugenio Perrone, nella persona del direttore generale Marco Correggia, i funzionari che sono in continuo contatto con noi, lavoriamo gomito a gomito ogni giorno, stiamo cercando di intensificare il rapporto, il dialogo dell'amministrazione con la propria partecipata, proprio per arrivare nel corso del tempo ad offrire maggiori servizi e al contempo avere la collaborazione di più cittadini possibili, perché le riuscite di queste operazioni dipendono anche non solo dalla sensibilizzazione, ma anche dalla collaborazione della cittadinanza. Fino a oggi, in questa prima fase, siamo agli albori di un'operazione molto più ambiziosa e complessa, non ci possiamo lamentare per quelli che erano i cliché di questa città. Certo, noi miriamo comunque a fare in modo che anche da Lido e dalla zona sud si possa considerare di poter arrivare in centro in un lasso di tempo congruo e ragionevole per la partita di calcio, piuttosto che per gli eventi che magari si svolgono nel centro storico, oppure semplicemente per espletare le attività lavorative quotidiane. È una mission che può sembrare impossibile, ma se solo pensiamo che 4-5 mesi fa tutto ciò, tutto quello di cui abbiamo parlato sembrava una rivoluzione copernicana per la nostra Catanzaro e allora capiamo che è possibile. È possibile se c'è un po' di coraggio e ce l'abbiamo da parte nostra e un po' di pazienza e di collaborazione da parte della cittadinanza. Al momento questo sta avvenendo e pertanto non posso che ringraziare, oltre tutti i soggetti pubblici e privati di cui abbiamo più volte fatto accenno, anche e soprattutto i cittadini che stanno avendo pazienza e che stanno capendo piano piano gli sforzi che stiamo mettendo in campo e ragioniamo per ragionare tutti insieme da comunità.